ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale io sono alessia e questo nuovo episodio di the sims 4 allora sto notando peli in giro tutto molto bello andiamo avanti siamo come potete vedere con simone duane compagnia bella molto bene il portatile in cima non ci sta mettiamoli e niente andiamo avanti un pochettino allora volevo farvi vedere che il nostro duane ha dei sentimenti per amanda quindi si comporta dell'interno indeciso probabilmente per non fare un torto a suo marito anche se se voi guardate qua con amanda lui non ha al momento sentimenti o cose così su di lei ora la vediamo in versione sirena perché lei forse in questo momento è in versione sirena magari sta notando da qualche parte bella domanda e niente insomma ragazzi abbiamo capito che duane l'eterno indeciso non sa cosa fare e si trova un bel bivio a maggior ragione visto che vuole farsela o comunque prova un desiderio per la sorella di suo marito anzi sorella gemella per la precisione quindi neanche una sorella qualsiasi pure la gemella bruttini però scusatemi pensavo fossero venuti una schifezza che infatti ho detto mamma mia li butto via quasi quasi e invece no sono venuti eccellenti fatemi vedere i ragazzi come sono messi con l'età tre giorni ok nel prossimo episodio allora sì per forza uh siamo già di nuovo cos'è natale dopo no notte bravi gira di capodanno no è oggi natale ma no neanche fatto l'albero ma neanche fatto l'albero che persone orribili noi non dovremmo poi avere un albero di natale che avevamo già fatto con loro in che ho salvato nella modalità costruisci vado a vedere torno subito infatti ragazzi mi ricordavo giusto avevamo quest'albero di natale in inventario chiaramente non è addobbato però una cosa alla volta in più ho preso ho anche i regali eccoli qua su cui poi aggiungeremo e ho deciso di mettere l'albero in mezzo alla stanza visto che c'è lo spazio per poterlo fare invece io dovrei farmi un po più furba e fare l'albero di natale appena inizia la stagione invernale come se fosse la vita reale che solitamente uno magari lo fa verso fine novembre i più classici ci tengono a farlo il giorno dell'immacolata quindi lo fanno l'otto di dicembre c'è chi già i primi di novembre ha fatto l'albero o chi come me che non lo fa proprio quindi insomma chi più ne ha più ne metta allora io accendi l'albero reimposta la decorazione sparito ornamenti lo facciamo giallo e bianco sto giro dai proviamo a fare tutti insieme e dopo siccome dovrebbe essere festa oggi quindi non dovrebbero proprio esserci scuole e cose del genere facciamo una sorta di pranzo in casa però anche l'altra volta l'abbiamo festeggiato con loro perché se abbiamo l'albero vuol dire che l'abbiamo festeggiato qua reimposta la decorazione no meglio imposta il puntale ma cosa vuol dire poi reimposta la decorazione decora con base di tessuto neve bianco e dorato mi sa che dovremmo rifare di nuovo anche le decorazioni forse non so cosa voglia dire cioè me l'ha tolto quindi basta e decora con ghirlanda rosso e dorato dai non perdiamoci in altre sciocchezze abbiamo un albero di natale da fare inoltre ecco qua prendiamo anche le decorazioni fuori da casa proprio quelle standard che ci dà decoriamo gli ornamenti li rifacciamo visto che li abbiamo annullati abbiamo fatto il disastro volevo una foto dei bimbi che fanno l'albero ma è un po' difficile beccare l'inquadratura giusta tipo da qua eh un po' difficile beh una foto sono riuscita a fargliela mi dichiaro soddisfatta e senti ma perché tu non vai a fare i tuoi bisogni? cioè sei là davanti col puntale una raggera bianca e dorata solo gli adulti lo possono fare il puntale direi che insomma è anche abbastanza normale altrimenti i bimbi poi si fanno male e dov'è finito questo puntale? cos'è non ti piace? decorazioni drastiche per aver fallito nel decorare l'albero perché? decorazione allegra? beh vabbè allora eccolo qua il puntale comando delle luci no niente non gli piace l'albero di natale abbiamo capito e vabbè che ti devo dire pazienza cioè ne verremo fuori e ne verremo a capo lo stesso allora vieni che cuciniamo un pochettino per appare il pranzo e già che ci siamo anzi possiamo organizzare il pranzo qua a casa l'evento un momento di gioco compleanno festa bianca e nero escursione alpinistica però festa con cena festa in casa festa della cava c'è un festa con cena anche se poi in realtà è un pranzo è giusto per coinvolgere la roba da mangiare nel mix allora loro due poi io voglio Thomas voglio Amanda Francesco Alice e non è che siano rimasti molti dai guarda Clemente no Clemente no deve arrivarmi dopo in versione proprio Babbo Natale non in versione Amico lo facciamo alle 12 come pranzo di Natale Babbo Natale magari mi arriverà alle 8 di solito mi sembra arrivi che i nostri amici sono già andati via però almeno i bambini potrebbero goderselo che poi non siamo neanche così fuori periodo adesso a festeggiare Natale non manca manca un mesetto più o meno poco meno in realtà abbiamo iniziato la festa a mezzogiorno giusto un par di sì allora facciamo una cosa così approfittiamo e aggiungi un dono che ognuno aggiunga qualcosa aggiungi un dono aggiungi un dono e lo facciamo fare anche a Simone una volta che ha finito aggiungi un dono spero che poi si vestano un po' meglio di così onestamente tu cosa ti stai mettendo a fare? casino in casa? beh grazie e no puliscimi tutto va là e no ma si è steso in cima ma guarda che lavori ma guarda che lavori vabbè ma gli ospiti non l'hanno visto niente quindi va bene così tu gli hai aggiunti i doni adesso sì festa con cena anche se in realtà è un pranzo ma non facciamo finta di niente venghi venghi si preoccupi qua sono tutti benvenuti davanti e indietro della madonna dai che fra poco arrivano tutti beh leviamogli la pettorina a sto cane allora prima lo sgridiamo per gli abai e dopo dov'è che è? cura dell'animale cambia abito e glielo togliamo che stai comodo anche tu oh dai stanno cominciando a provare dei sentimenti l'uno per l'altra per me significa molto che trovi il tempo da dedicarmi eccetera eccetera bello iniziamo dai oh jolly ma guarda che fa la nanna qua comunque sì raga mi piacerebbe un sacco adottare o omega o oddio libia anche perché la prossima volta veniamo qua con serena e aspettiamo il cagnolino giusto cioè ci piazziamo proprio qua fuori e finché non arriva il cagnolino giusto stiamo qua allora tu tecnicamente però forse dovresti vestirti da festa cioè è il tuo abito questo da festa no magari loro due magari loro due non continuano a fare amicizia nel frattempo francesco perché non lo posso invitare amanda vieni perché non è non viene nessuno cioè cos'è successo la tua nipote Thomas non vabbè facciamo invitare da loro non c'è problema ma oddio stava per avere un flirt anche con Don Lothario vabbè come dargli torto del resto no Thomas è già qui gli altri arriveranno molto presto Thomas è già qui dove però allora qua abbiamo Francesco che è anche mezzo nudo mi chiedo perché non si sia ancora preso una broncopolmonite ma vabbè questo è il meno eccolo qua il piccolo Thomas eee ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato aggiunge il gruppo veniamo tutti qua così intanto me li porto qui io qua ho più cani oddio oddio qua può venire fuori il disastro potete dirmi che non vengono più con la porta bloccata vabbè sblocchiamola così entrano letteralmente cani porci e perché non c'è nessun altro scusatemi Amanda perché non viene Alice eccola qua giungi al gruppo quindi qui Alice tu chi sei? ospite ti ho anche invitato ma chi cioè ma chi ti conosce poi? io a quanto pare stiamo perdendo un sacco di tempo per far arrivare sti quattro ospiti balenghi vabbè eeeh chiama il pasto grandioso tu chi sei? Ashkara boh 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 Amanda continua a non venire perché? mi dice che arriva poi non arriva ma scusatemi io sta gente davvero l'ho invitata? tre quarti manco mi ricordo vabbè Thomas cosa fai? vabbè chi c'è c'è chi non c'è sta sotto come si suol dire no? e Amanda non è venuta Amanda sei venuta diciamo che Duane è estremamente contento di vederla se così vogliamo dirlo sembra che collabori perché così non sta neanche collaborando mi stai mandando a monte tutto tutti i miei piani i miei sogni di gloria tu li stai mandando a monte con tre M a monte eccoti amica mia e adesso loro due stanno facendo un sacco di chiacchiere insieme lei ovviamente è mezza nuda perché sennò non sono contenti e lui ha un regalo speciale per lei non so neanche cosa e la scatola misteriosa bellissima è quella che ti porta il cane quando va a scavare da qualche parte e apriamo i doni che dite qua sta finendo tutto diciamo che la mia idea era quella che Simone mi sa che forse l'ha notato che loro due stanno chiacchierando un po' più del solito cosa che solitamente loro due non facevano addirittura un regalo speciale solo per lei mica tanto normale come cosa poi che le piaccia o no con un altro paio di maniche infatti le ha fatto cagare cioè come darle torto del resto no ha fatto schifo anche a me e niente allora non siamo riusciti ad aprire il regalo con tutti però lo apriamo fra di noi forse vediamo cosa ci riserva un anguilla lupo non ne è particolarmente felice come dargli torto del resto beh Duane giustamente ha tagliato la corda se ne va proprio a dormire non ne voglio sapere niente lei ha avuto uno di questi che sono quelli nuovi che hanno aggiunto con dovrebbero essere quelli nuovi con oasi invernale oasi invernale oh mamma oasi innevata ammetto che anche oasi invernale ha un suo perché ma non il perché che serve a noi e niente natale orribile non è successo nulla di tutto quello che speravo o comunque è successo in piccola quantità e come sempre quando i sim collaborano è sempre tutto molto bello no adesso andasi casa vostra fuori cojoni grazie adesso siamo anche zeppi di animali che non ci competono ecco Beryl io vorrei che Serena adottasse che ho un debole per sta cagnolina così perché mi piace la razza speriamo che ci sia quando la prossima volta gireremo in tondo qua finché non ne troviamo uno pronto per essere adottato speriamo allora tu cosa ci fai sveglio sei stato svegliato da un abbaio di un qualche tipo boh vabbè e niente adesso adesso basta chissà quando cavolo ah babbo natale alle nove della sera arriva allora blocca la porta per tutti tranne i membri dell'unità familiare così anche babbo resta fuori no babbo entra lo stesso perché è anarchico mi sembra giusto miu anche a te oh ma lascia i regali che bello no dai ma ragazzi ma io forse casco dalle nuvole però non l'avevo mai vista sta cosa pensavo che tu potessi avere i regali da babbo natale solo se tipo ti presenti e glielo chiedi non pensavo che se c'era il mucchio di regali lui te ne lasciava che figata ripeto io casco dal pero proprio allora così se devo dire la verità da anche una sorta di mistero per così dire la cosa no nel senso di solito i bambini non è che lo vedono babbo natale direttamente all'opera o almeno vedono il nonno lo zio il cugino travestito da babbo natale quindi così dà un senso di realtà no che vabbè esiste un babbo natale chiamiamolo un po' come vogliamo ma no i bambini non lo vedono è anche vero che sto babbo natale però si pianta in casa non va più via è perché ho bloccato le porte vabbè sblocchiamole ho anche mi sa altri animali in casa che non sono miei temo perché che io ho quattro animali dov'è andata cupcake ho andato non mi ricordo se è maschio o femmina oh ciao babbo gli diamo un regalo visto che si è venuta a presentare solo per questo motivo qua però canta condividi chiedi un dono ah sa che non te me regali in una schifezza perché te soffego un mostro marino fossile ascolta una roba babbo ma sei serio? sta roba qua ascolta non è meglio veramente l'anguilla lupo eh che io vendo anche perché perché è orribile allora mi avete consigliato giustamente lavorare a maglia ah vabbè noi ne abbiamo una maglia di fare una tutina per Edoardo però lui non la sa ancora fare la tutina cioè nel senso non è ancora arrivato al punto in cui sa fare le tutine vediamo se riusciamo ad alzargli un po' l'abilità se no proviamo a comprargliela su Plopsi la prossima volta con Serena che mi sa che sarà la soluzione più probabile fra le due sì perché non so a che livello si sappiano cucire ste robe cucire sì insomma lavorare a maglia dai Simone che la sofferenza nel mondo è tanta non serve che ti ci metti anche tu allora lavora a maglia abbigliamento boh lavora a maglione cosa mi interessa basta che impari a lavorare a maglia e se davvero che mi interessi cosa lavorerai a maglia basta che da qualche parte inizi ciao buongiorno allora papà Duane pulisce anche la vasca da bagno in modo che la piccola viola possa farsi il bagno su una vasca pulita cavolo già a livello 7 volete dirmi che serve un livello ancora più alto per fare quelle caspita di tutine vediamo se magari ha sbloccato qualcosa bigliamento maglioni berretti maglia calze eh sì più alto del 7 anche bene brava tu ti fai il bagno nel frattempo dopo se lo farà anche lui perché è tutto zozzo che schifo e dopo apriamo anche i regali di babbo natale eh sì un bagno in 4 è un po' poco ma ci arrangiamo con quello che abbiamo allora io sto progetto a maglia l'ho fatto abbastanza a caso cioè nel senso mi interessava che continuasse a ecco Pedro sta sfuggendo ok niente abbiamo capito che non possiamo riprendere quel lavoro che sennò mi si blocca tutto va bene lo lasciamo lì Pedro sta scappando Pedro ma dove vai Pedro ma dove vai se l'erba gatta non hai io non so dove sia cupcake eccola eccola o eccolo qua animale scomparso duane pubblichiamo l'avviso oddio era la stessa razza di Semmino ve lo ricordate Semmino ve lo ricordate fatemi sapere nei commenti se ve lo ricordate e paghiamo le bollette che poi noi abbiamo già la cassetta postale fatta da 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 quindi non vedo dove stiano tutti i problemi allora tu stai andando a dormire no tu devi andare a scuola no a letto forse è rimasto bagato va bene vai a scuola allora il 26 di dicembre loro vanno a scuola lui invece è già un uomo finito beh meglio onestamente nel senso che adesso gli facciamo fare la pipì perché non si va mai a letto con la vescica piena io sto gatto lo mangio nel sonno guardate quante ne ha combinate per cui lo devo sgridare soprattutto i graffi oh è in grossi guai chiaramente invitiamo Amanda nell'otto attuale visto che Simone sta dormendo e i bimbi sono a scuola vediamo se viene innanzitutto rimaniamo allerta aspettiamo un attimino vediamo se viene mi andrebbe un appuntamento ti ho appena invitata qua no ti voglio qua a casa non ho voglia di andare in giro Amanda già nei paraggi eccola là amo il rischio preferisco stare in casa è arrivata invece di lavarti le mani le viene a dare un bacio per favore oh signore che sgattaria guarda che roba oddio oh mio dio ma cos'è perché no volevo fare una foto mi sono persa ah mamma vabbè non possono essere sempre loro due protagonisti delle nostre copertine però effettivamente quindi ci sta recupera in extremis dai non riesco davvero a capire quale sia il problema cioè si piacciono provano dei sentimenti l'uno per l'altra eppure prima è lui che rifiuta lei e dopo è lei che rifiuta lui pazzesco veramente mandiamola a casa va prima di rovinare tutto oddio Simone è sveglio non l'ha visto vero ok no perché non è ora il momento giusto per saperlo arriverà arriverà anche quel momento ma non è ora ho altri progetti sì dai fatti da mangiare costa sgattaria di sottofondo mannaggia i pescetti allora magna e tasi come si suol dire duane poi adesso dovrebbe anche andare a lavorare no eh sì vai che ieri sei stato a casa e praticamente cioè lavori tre giorni alla settimana almeno lavora lì quando quando devi no maria vergine che avanti e indietro sto cane non sembra di camoscio tipo velluto non so dai vieni a ad aprire uno dei doni che ha lasciato Babbo Natale dai una schifezza un'anguilla lupo anche tu tristezza condiviso per un senso di vicinanza nel confronto io sia un triste uno rassi beh meglio lo rassi che non un'altra roba prendi di soppiatto un dono un tavolo scientifico vero prendi di soppiatto anche tu un dono facciamone fuori il più possibile Pedro è tornato un altro orassi bene e allora raga in conclusione dell'episodio vediamo un attimo i regali e vediamo se riusciamo a metterli da qualche parte anche se penso che non abbia particolare senso perché la prossima volta che siamo con loro loro diventeranno adolescenti quindi tutte queste cose qua non non ci servono quindi penso che non le metteremo neanche da nessuna parte io ho ancora il tavolo da esterni che una volta era in terrazzo l'ho tolto ma non credo lo rimetterò perché se ho qua la roba dei cani se no devo trovare un altro posto dove metterla detto questo io veramente Duane e Amanda non li capisco mi stanno facendo penare come pochi e io niente raga con un altro Natale dimenticato come il mio solito vi lascio qua lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti